Rullo di tamburi E ogni volta tornarci è sempre una conferma per il cibo, le tradizioni, chi più ne ha più ne metta Poi comunque ogni regione della nostra bellissima Italia c'è di tutto e di più, tradizioni, culture, cibi e così via Partiamo dalla mega colazione che sta scorrendo mentre io parlo della struttura in cui ero, nell'albergo Questa colazione da 5 stelle plus, veramente, un buffet pieno di tutto e di più E ditemi sotto nei commenti chi non perde la dignità al buffet della colazione in hotel Io sì, lo sapete, sono una buona forchetta, non mi sono mai nascosta Lo sapete, assaggio tutto, mangio di tutto La buona forchetta che sono non mente assolutamente E ho mangiato veramente il paradiso Qui c'era per farsi il caffè al momento La varia selezione di cornetti, il reparto salato C'era veramente il paradiso, non so quanto ho mangiato Mamma mia Vabbè ragazzi, l'essere buona forchetta è anche questo Il reparto del salato, cioè veramente ho mangiato di tutto Questa struttura era meravigliosa, proprio fantastica in tutto e per tutto Continuiamo col pane, che vodka fa Poi siccome non era abbastanza ragazzi Una selezione anche di torte come state vedendo Alcune anche tipiche, mi hanno detto lì in hotel, dell'Umbria Adesso non mi ricordo qual'era tipica dell'Umbria Però comunque anche queste qui, come se non lo sapevate, le ho assaggiate tutte Praticamente già la colazione era un pranzo, però ok Siccome la colazione non bastava dell'hotel S'era fatta ora di pranzo e andiamo ad assaggiare le tipicità umbre che parecchie le conosco Questa osteria mangia fuoco, che è nel centro storico di Perugia Bellissima, tutto il stile Pinocchio, spettacolare Qui stavamo ordinando Siamo nella patria di tartufo, funghi Chi più ne ha più ne metta Ho preso dal menù cacio e pepe Quindi una sorta di romanità con in mezzo un po' di Umbria E ragazzi, la romanità sempre e comunque Quindi cacio e pepe con tartufo grattato sopra Il secondo, dato che siamo sempre e comunque nella patria della selvaggina La cacciagione e chi più ne ha più ne metta che io adoro da impazzire Ma non ho portato questa salsetta da abbinare burger di cinghiale La merenda del pomeriggio ragazzi l'ho saltata Passiamo direttamente alla cena dove ho preso un tagliere Tutto Umbro anche qui rigorosamente Salumi, formaggi, la panzanella tipica come fanno loro tutta spezzettata Un formaggio di vicino Perugia mi sembra Poi questa torta al testo si chiama una sorta di piadina che puoi guarnire come puoi Pateti fegatini e fagioli Seguire ragazzi, ci ho dato sotto Quando sto in una regione a me piace assaggiare le tipicità O riscoprirle dato che alcune le conoscevo Gnocchetti con ragù di oca Meraviglioso Con questo è veramente tutto Ci vediamo, non c'è un po' stecina ragazzi Ci vediamo mercoledì 14.30 con 9 sul canale Ciao! Ciao!